Allora, diciamo le cose come stanno. Grazie a te ci hai fatto vivere i momenti meravigliosi a Capri, a noi molti anche a Los Angeles e quindi non possiamo essere contenti con te e festeggiare questi 25 anni di Capri Hollywood e per altri 25, sperando che ci faranno, è entrato di abbraccio forte e tanti auguri, un bacione.